18 luglio, Calignaia, esercitazione della guardia costiera all'ergo di Calignaia, se mi riesce zoom un elicottero della guardia costiera ha girato intorno per più di mezz'ora e continuava a girare ogni tanto lascia cadere un sub, poi lo ripescava e lo riportava su a volto dell'elicottero a largo due battelli, non si capisce se sono entrambi della guardia costiera o seppure invece c'era una qualche tipo di emergenza, probabilmente esercitazione con gommoni e barche della guardia costiera Grazie per la visione!